Una doppietta quest'oggi, una giornata che non dimenticherai facilmente. Sì, sì, no, innanzitutto è stata soprattutto una grande partita fatta da parte di tutti, molto bene. L'importante oggi era vincere perché non vincevamo da tanto in casa, non vincevamo da tre partite, quindi ci mancava un po' e quindi siamo contenti. La tua crescita anche durante la stagione passa anche dalla crescita di reparto, è così? Vi sentite amalgamati di dietro? Sì, sì, ci troviamo bene, piano piano ci stiamo conoscendo tutti quanti. Adesso è tornato anche Manfredo, quindi siamo ancora più al completo. Ci è aggiunto Giovanni che sarà sicuramente un valore aggiunto per il reparto e per tutta la squadra in generale. Diciamo che la squadra in generale sta andando bene, il percorso è quello giusto, noi testa bassa e dobbiamo solo continuare a lavorare. È stata magari una questione di approccio anche nelle scorse gare, penso a quella di Termoli, a quella di Monterotondo è mancato l'approccio, mentre oggi c'è stato in modo pieno. Sì, 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 assolutamente. Abbiamo mancato un po' di carattere nelle precedenti partite, abbiamo mancato anche un po' il gol, perché comunque occasioni l'abbiamo avuta, abbiamo creato molto nelle precedenti partite. Oggi ci è andata meglio perché lo volevamo assolutamente. Ripeto, dobbiamo continuare così e sono sicuro che faremo bene. Ora vi aspetta il derby, con quale carattere vedremo il dottoresco all'Angeli? Con il carattere di oggi soprattutto, è una partita che sicuramente si prepara da sola, loro sono una corazzata, stanno lì sopra e giocano per vincere il campionato, però penso che se ci prepariamo bene, se lavoriamo bene durante la settimana, faremo una grande partita.